larghe macchie a forma d'uovo appaiono sul dipinto il rapporto tra loro dal punto di vista della forma come del colore è oscuro e provoca sconnesse sensazioni di tensione e disagio le piccole appendici sono unite alle forme più grandi con sottilissime linee che come in un micro universo organico sembrano essere i canali attraverso i quali passa la fonte di sviluppo i primi lavori di baumeister erano influenzati in modo particolare da fernand legge ma successivamente sviluppò una sua particolare forma espressiva definita surrealismo astratto